Emergenza coronavirus, Estra non applicherà gli interessi di mora normalmente previsti sulle bollette di luce e gas di Estracom scadute o in scadenza tra il 9 marzo e il 20 aprile. Il pagamento dovrà però avvenire entro il 30 aprile. Estra offre la possibilità di pagare le bollette, anche scadute, in tre rate, dal mese successivo alla scadenza, bollette che si possono pagare anche dall'area clienti sul sito di Estra o con l'app Estra per iPhone e Android. Chiusi fino al 3 aprile gli uffici al pubblico di Estra, la società mette a disposizione canali alternativi di comunicazione e servizio, riservati e sicuri per svolgere le stesse pratiche degli uffici aperti al pubblico. Estra, anche durante l'emergenza coronavirus, continuerà a garantire i servizi essenziali di pronto intervento fughe gas e guasti telecomunicazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.